Sembra decisa ad alzare bandiera bianca Cosimo Sibiglia, dopo un lungo tira e molla il presidente della Lega Nazionale degli Attanti pare pronto ad arrendersi a non proseguire la stagione sportiva della D. È veramente difficile, ha affermato, il protocollo medico è complicato in massima serie, da noi è veramente impossibile da attuare, anche se è consapevole che molte società il prossimo anno faranno fatica, cosa che lui stesso ha affermato già nelle scorse settimane. In gioco c'è la vita di tante società, serve un aiuto concreto da parte del governo, a queste condizioni non si può andare avanti. C'è il rischio che il 30% del movimento dilettantistico possa saltare il prossimo anno, visto che tanti presidenti saranno costretti a scegliere tra le attività di famiglia e la propria squadra di calcio. Club che non avranno nemmeno il supporto delle sponsorizzazioni, non bisogna dimenticare che tranne in alcuni casi con società dal passato glorioso, Ogni squadra dilettantistica ha intorno a sede ai 38 ai 40 sponsor che versano piccole quote dando la possibilità ai club di mantenersi. Le società non solo di D. si attendono che la Liga tendi la mano e azeri i costi di iscrizione facendosi carico delle spese per il prossimo anno.